Buonasera a tutti, buonasera a tutta la comunità del Movimento 5 Stelle, buonasera a tutti coloro che vogliono seguire, vogliono anche essere aggiornati, visto che negli ultimi giorni hanno circolato tante informazioni anche un po' false e che hanno deformato un po' con la nostra posizione. Noi avevamo già anticipato e come l'avevamo anticipato così è stato, i nostri senatori al Senato non hanno partecipato al voto sul decreto aiuti, motivando questa posizione con ragioni di metodo e in parte anche di merito, la presenza di una norma su un termo valorizzatore che renderebbe in prospettiva la capitale e la pattumiera inceneritrice nel centro Italia, il mancato inserimento di una norma sul super bonus assolutamente necessaria perché migliaia di imprese sono sull'orlo del fallimento e ancora l'inserimento di una norma sul reddito di cittadinanza del tutto scollegata all'attuale sistema del centri per l'impiego. Ecco, niente di niente, tutte le nostre richieste sono state respinte, la nostra posizione è stata chiara, lo stesso l'ho anticipata per tempo al Premier Draghi spiegando che la nostra non era contrarietà alla fiducia ma linearità e coerenza rispetto a un atteggiamento incomprensibile di totale chiusura che permettetemi di dirlo ha sentato fin anche la umiliazione politica. Nelle ricostruzioni malevole ho letto che qualche commentatore ha scritto che il Movimento avrebbe ricattato, avrebbe fatto ricatto al Governo. Io mi chiedo come si fa a deformare così platealmente la realtà? Vorrei ricordare che nel decreto aiuti sin dal Consiglio dei Ministri siamo stati trasparenti e collaborativi, abbiamo proposto una riformulazione della norma sull'inceneritore in linea con i principi della transizione ecologica e dell'economia circolare, abbiamo chiesto che contenesse un riferimento al piano regionale sui rifiuti della regione Lazio, abbiamo chiesto che contenesse almeno dei riferimenti alle direttive europee, abbiamo chiesto che fosse estrapolata quella norma che non c'entrava nulla con il decreto aiuti e fosse poi inserita in un decreto ad hoc o in un altro veicolo normativo in corso di approvazione, niente di niente. La conseguenza è stata che i Ministri sono stati costretti a non partecipare al voto già nella seduta del Consiglio dei Ministri, quindi diamo alle parole un senso. Qualcuno ha parlato di ricatto e allora il ricatto l'abbiamo subito e quando al Senato abbiamo partecipato alla votazione, chiaro che abbiamo consapevoli anche del significato che poteva essere attribuito, abbiamo provato a circoscrivere al minimo il significato politico di questa nostra linearità e coerenza. Abbiamo infatti detto che non era una votazione contraria e quindi non era neppure un'astenzione. Ovviamente il Presidente Draghi ne ha tratto le conseguenze che ha ritenuto. Confidavamo che potesse optare per un percorso diverso, ritenevamo giusto anche alla luce della forzatura che era stata operata nei nostri confronti e dei nostri principi che non fosse attribuita a questa non partecipazione al voto il significato di un voto contrario alla fiducia. Dal comunicato però diramato dal Presidente Draghi abbiamo ricavato che quella nostra mancata partecipazione è stata intesa come elemento di rottura del patto di fiducia posto a fondamento di questo esecutivo. Ne prendiamo atto. Come noi d'altra parte ci assumiamo la responsabilità nei nostri comportamenti, anche il Presidente Draghi si assume la responsabilità della sua decisione. Le dimissioni del Presidente intervengono in un momento in cui l'ultimo voto di fiducia espresso sia alla Camera e poi al Senato certifica che esiste una maggioranza che gode di ampi margini numerici, un margine numerico di cui nessun esecutivo ha mai goduto prima durante questa legislatura. Vorrei ricordare però che questo esecutivo in particolare è nato con un voto online della Comunità 5 Stelle che ha condizionato il nostro sostegno alla realizzazione della transizione ecologica. Quindi nessuno può chiedere i nostri voti in tutta chiarezza anticipata per tempo, nel caso ad esempio di nuove trivellazioni nell'Alto Adriatico, nel caso in cui si voglia ritornare a costruire centrali a carbone per realizzare impianti di termovalorizzazione. Quanto invece alla nostra più complessiva posizione politica abbiamo consegnato come sapete a Draghi un documento politico, un documento politico che indica le priorità del Paese e direi che nessuno può permettersi, se è in buona fede di parlare di posizioni strumentali, posizioni pretestuose. Abbiamo chiesto tra le altre cose un salario minimo legale, sottolineo legale, che significa che ci sia per tutti i lavoratori, per quella platea di 4 milioni e mezzo di lavoratori, lavoratrici che prendono meno della soglia decorosa, quella che più o meno possiamo sapere intorno a 9 euro l'ordi l'ora, nessuno possa invece prendere paghe da fame, pur svolgendo spesso turni massacranti. Abbiamo chiesto di contrastare il precariato selvaggio, pensate, nell'ambito di questo precariato la maggior parte dei contratti non superano la durata di 30 giorni e quasi il 10% hanno la durata di un solo giorno, quindi c'è veramente da chiedersi come possano fare i nostri lavoratori in queste condizioni, i nostri giovani, le nostre donne a elaborare progetti di vita. abbiamo mandato giù di tutto, abbiamo anche ricevuto offesi, attacchi dalle altre forze politiche, al Presidente Draghi abbiamo però costruttivamente proposto nuove punti per migliorare la qualità di vita e per aiutare famiglie e imprese a superare questo momento di grande emergenza. Ecco, lì abbiamo chiesto delle risposte concrete, vere, non delle dichiarazioni di intenti, anche perché noi nella pandemia l'abbiamo già affrontata, abbiamo portato oltre 209 miliardi per il piano nazionale di ripresa e resilienza, abbiamo investito in sostegno oltre 130 miliardi, abbiamo portato il Paese a un semi, quasi 6% di PIL e quindi chiaramente non possono essere sufficienti 200 euro una tantum. Abbiamo evitato anche un milione di poveri, come dice, ha certificato recentemente l'Istat con le varie misure di protezione sociale. Ecco perché abbiamo chiesto un intervento anche urgente, di forte impatto per un piano straordinario di aiuti a imprese e famiglie con taglio del comune fiscale a beneficio dei lavoratori e sostegni consistenti a imprese e lavoratori autonomi. Il fatto che poi subito dopo ci sia stato un incontro a Palazzo Chigi con le parti sociali e l'annuncio di un decreto di fine luglio vuol dire che avevamo ragione ad affermare che gli aiuti sin qui stanziati non si sono rivelati sufficienti. Riteniamo assolutamente urgente, lo stiamo chiedendo da tempo una norma sul super bonus che salvi le imprese che stanno fallendo e consente alla circolazione dei cassetti di crediti fiscali bloccati. È davvero urgente. I dati a nostra disposizione certificano, dati ufficiali, che per 38,7 miliardi di euro investiti dallo Stato in questo settore sono stati generati un valore economico per 124,8 miliardi di euro e tra l'altro tra occupati diretti e occupati del settore abbiamo avuto 634 mila lavoratrici e lavoratori in più. Quindi quella è una misura non solo che non va disprezzata ma assolutamente va salvaguardata. Abbiamo posto le questioni prioritarie, quelle più urgenti, che a noi tolgono il sonno e ci interrogano sulle nostre responsabilità, corresponsabilità di governo. Noi non abbiamo mai ragionato, mai, sottolineo mai, per convenienza di parte, nemmai le valutazioni elettorali, come qualcuno in malafede dice, hanno offuscato quella che è la priorità assoluta che abbiamo per il bene dell'Italia. I giornali amano scrivi a volte di un osso braccio di ferro col governo, lo confesso, qualche volta l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto nel senso che abbiamo assunto le posizioni molto ferme e risolute, come quando abbiamo chiesto sostanziali modifiche alla riforma cartabia sulla improcedibilità dei processi penali e anche sulle modifiche dell'ordinamento giudiziario. Lì c'è stato un confronto anche molto duro, molto serrato col governo, però non eravamo mossi da interessi personali. Il rischio è che andassero in fumo migliaia di processi penali. E pensate un po', recentemente è intervenuta la Commissione Europea con la relazione report sullo Stato di diritto, sul report annuale e ha sollevato puntuali critiche proprio su quel meccanismo dell'improcedibilità dei processi penali e ancora sulle norme di riforma dell'ordinamento giudiziario sull'indipendenza dei giudici. E allora la domanda che pongo a tutti gli italiani, se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle che è intervenuto a suggerire e anche imporre, se mi permettete, sostanziali modifiche alla versione originaria. Figuratevi che cosa sarebbe successo se quella finale conserva ancora criticità. Ecco, siamo consapevoli di essere una maggioranza così ampia, essere una maggioranza così ampia significa anche accettare compromessi, soluzioni compromissorie rispetto alle rispettive posizioni iniziali. Ma ricordo però che all'avvio di questo governo abbiamo subito chiarito in piena trasparenza che il nostro sostegno non avrebbe mai comportato la rinuncia a declinare i principi della transizione ecologica, della giustizia sociale. Quei principi sono nel nostro DNA. Se ci siamo noi bisogna declinare quei principi, altrimenti noi non ci possiamo essere. E la crisi energetica in atto, e lo abbiamo scritto anche nel documento che abbiamo consegnato al Presidente Draghi, non può essere per noi una scusa se qualcuno volesse tornare al passato, se qualcuno volesse ritardare gli investimenti nelle fonti rinnovabili, consentire nuove trivellazioni. Né una forza di maggioranza può pensare di scardinare il sistema che abbiamo faticosamente retto e che stiamo migliorando di protezione sociale, perché esistono certo i privilegiati, ma esistono anche quelli che non hanno voce, che non contano, gli ultimi, le persone fragili e vulnerabili. E uno Stato civile deve occuparsi soprattutto di questi ultimi. Noi non siamo disponibili a tradire quindi i valori costituzionali. Il patto che abbiamo stretto con le generazioni future. E certo siamo convinti che occorra concentrare i massimi sforzi per cercare una soluzione diplomatica per porre fine a questa guerra, a questo conflitto che provoca carneficine, distruzioni e anche procura recessione economica. Le dimissioni del Presidente in carica intervengono in un momento di grande difficoltà per il Paese. Molte forze politiche che sostengono la maggioranza si sono affrettate, l'avrete letto, a chiedere che il Movimento 5 Stelle rimanga fuori dal perimetro di maggioranza. Anzi, gli esponenti più vementi sono state le forze più giovani che evidentemente interrogano la propria coscienza dopo aver rinnegato i propri principi e i propri valori. Hanno manifestato ancora una volta tante forze politiche e ostilità nei nostri confronti. Io non credo che sia un'ostilità nei confronti di esponenti del Movimento 5 Stelle, ostilità personale. Io credo che sia contrasto verso i principi, i valori da noi difesi, tutelati e professati. Transizione ecologica, digitale, giustizia sociale, difesa della legalità. Noi siamo scomodi, lo sappiamo e l'abbiamo sempre saputo. Ma questa nostra intransigenza è dovuta al fatto che la nostra azione politica è stata sempre ispirata e sarà sempre ispirata al bene del Paese e alla tutela dei bisogni dei cittadini. È per questo che con spirito costruttivo abbiamo invitato il Presidente Draghi a confrontarsi su quelle nostre priorità, su quelle urgenze da noi indicate che esprimono le ragioni del nostro disagio politico in questo perimetro di maggioranza ed esprimono anche i modi, le forme per superare questa emergenza economica e sociale. La risposta non è ancora pervenuta. C'è stata qualche generica apertura su alcune delle urgenze segnalate, ma nessuna indicazione concreta sulla soluzione di esse. I cittadini chiedono le imprese risposte risolutive e noi lo stiamo chiedendo da tempo e se le misure si inquivarate non bastano a cittadini e imprese non possono bastare neppure al Movimento 5 Stelle. La trasparenza con i cittadini, la sincerità che dobbiamo a noi stessi al Paese ci impone di prendere atto che non spetta a noi evidentemente in questo momento se ci sono degli elementi per recuperare quella rottura del patto di fiducia di cui ha parlato il Presidente Draghi. Peraltro tutti gli stanno facendo pressione e continuerà questa pressione perché possa proseguire il suo governo, ma è sicuramente importante come proseguire queste azioni di governo. Lui ovviamente non vogliamo tirarlo dalla giacchetta, deciderà lui liberamente per chiarezza e trasparenza per parte nostra precisiamo che non potremo condividere nessuna responsabilità di governo se non ci sarà chiarezza sulle questioni, sui punti da noi sottolineati e il documento politico già consegnato e pubblicato e se non ci sarà indicazione concreta su quella che è la prospettiva di risoluzione di quelle questioni. Purtroppo non è più tempo di dichiarazione d'intenti, è tempo di definire un'agenda di governo chiara, puntuale rispetto a queste priorità e un cronoprogramma ben specifico. Ovviamente spetterà al Presidente Draghi valutare anche se ricorrano o meno le condizioni per garantire al Movimento 5 Stelle di poter svolgere svolgere la sua azione politica in un contesto, in un periodo di maggioranza che si sta rivelando davvero poco coeso, soprattutto consentendo al Movimento 5 Stelle di poter godere del rispetto e della medesima correttezza che il Movimento 5 Stelle ha sempre accordato a tutte le altre forze politiche che sin qui hanno sostenuto il governo. Senza risposte chiare e se non ci saranno garantite condizioni di rispetto è evidente che il Movimento 5 Stelle non potrà condividere una responsabilità diretta di governo. Ci sentiremo liberi, sereni, ma se mi permettete ancora più responsabili, se mai è possibile, di votare e di partecipare nella prospettiva che ci sia una prossima azione di governo, di votare quel che serve al Paese di volta in volta, quel che serve ai cittadini, portando avanti costruttivamente la nostra azione politica e favorendo senza alcuna contropartita politica del tutto disinteressatamente tutte le misure utili a provvedere ai bisogni e alle necessità di cittadini e imprese. Grazie. Grazie.